Ci sono due jeep nel parcheggio. Giù la testa! Sì! La PC sulla strada è ancora attivo. Ora mi occupo dell'imbarcadero. Occhio alle schegge! 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 Fantastico! Psycho, sono Emerson. C'è un video in arrivo. Dagli un'occhiata. L'aereo di O'Neil ha smesso di trasmettere dopo l'impatto. Ma c'è qualcosa di interessante negli ultimi fotografi. Ho capito, capo. Non riceviamo più segnali da O'Neil. La priorità è container. Quelle fotografie potrebbero dirci cosa c'è dentro e dove è diretto. Le trasmissioni delle PC indicano che stanno andando a controllare l'aereo. Devi recuperare la macchina fotografica. Comando, qui Sierra 2. Chiedo recupero. Rispondi, comando. Sierra 2, qui comando. Richiesta ricevuta. Aspetta, la trasmettiamo al gruppo portaereo in passo. Ricevuto. O'Neil, ce l'hai fatta! Che cazzo vuol dire ce l'hai fatta? Ovvio che ce l'ho fatta. Sierra 2, qui comando. Raggiungi posizione Tango Papa 7-0. Negativo, comando. Troppi coreani attorno. Inviate il recupero. Negativo, Sierra 2. I tuoi ordini... Merda! Ho solo una pistola contro l'intero EPG! Mandate qualcuno a prendermi! Rispetta i tuoi ordini, Sierra 2. Arrivo tra pochissimo. Stai tranquillo. Cycle, le foto dovrebbero essere sul seggiorino aiettabile. Recuperali prima che l'EPG lo distrutta. Ricarico, copritemi! Quale testo americano? Calutero! Ricarico! Armutero! Capritemi! Calutero! Ero. Sarà bello ammazzarti! Ma che diavolo? Noi, ma che c'est per tuo! Grazie a tutti.